Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao a tutti, sono Antone Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Ciao a tutti sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente la Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Un saluto Ciao sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre ma sempre Radio Inizia il Campionato Gentili radioascoltatori di Radio Inizia il Campionato dopo un turno in serie davvero importante vi racconteremo tutto nel programma Che Goal il programma tutto interamente dedicato al calcio io sono Daniele De Conno e vi ricordo che questo programma è in collaborazione con Calcio Mercato Report salutiamo il direttore Attilio Malena oggi sono solo ma saluto i miei compagni di viaggio Simone Aiello, Filippo Ferrante, Simone Cataldo e il compagno di viaggio che c'è solo il venerdì per raccontarci la serie C Francesco Quattrone allora iniziamo col primo argomento che è la nostra cara serie A ricordandovi i risultati del ventitresimo turno Roma 2, Bologna 3, Fiorentina 1, Atalanta 2, Torino 1, Sampdoria 3 E la Sverona 2, Juventus 1, Spallo 1, Sassuolo 2, Brescia 1, Udinese 1, Genoa 1, Cagliari 0, Napoli 2, Lecce 3, Parma 0, Lazio 1, Inter 4, Milan 2 allora bello questo turno di campionato e sarà anche ricco il turno di Coppa Italia noi non ci fermiamo solo al calcio maschile passiamo sempre anche al calcio femminile con la Coppa Italia andremo prima a darvi notizia della Coppa Italia Woman e poi della Coppa Italia Maschile questo turno di serie A ha dato un passo falso della Juventus perché un passo falso della Juventus? Perché ha perso per 2 a 1 aveva assegnato il gol praticamente al ventunesimo con Bulla ma per una mano che era avanti era in fuorigioco e quindi è stato richiamato l'arbitro a vedere il VAR proprio in cui è stato richiamato e quindi ha visto e il VAR ha detto non è gol è fuorigioco e allora sono aperte, si è aperto tutto quanto di nuovo la partita perché hanno sempre giocato bene entrambi le squadre il primo tempo si è concluso 0 a 0 poi al 65esimo ha assegnato Cristiano Ronaldo con assist di Rodrigo Benancur la Juventus che conduce benissimo la partita vuole provare a vincerla però ricordo che al 76esimo un piccolo errore della Juventus in fase difensiva c'è un regalo del pallone a Borini a Fabio Borini assegna mette il pallone alle spalle di Scesni poi all'86esimo ho battuto un calcio d'angolo proprio viene il giocatore Giorgio Ghiellini con una mano allontana fuori il pallone e quindi viene richiamato l'arbitro al VAR di nuovo perché la regola, ve la voglio rispiegare se c'è un abbraccio in area di rigore o in qualsiasi altra parte del campo viene fatto un fallo o magari c'è stata un'azione scorretta può essere chiamato l'arbitro al VAR soltanto se si ferma il gioco quindi per esempio, vi faccio un esempio se non c'era il calcio d'angolo ma la prendeva Scesni comunque si era stoppata l'azione se la spazzavi il pallone e continuava il gioco per della Sverona appena, non appena si fermava il gioco veniva richiamato l'arbitro al VAR questo ha fatto chiamare l'arbitro al VAR c'era la mano di Giorgio Ghiellini proprio era fuori dal corpo quindi si è visto il gol praticamente il rigore poi è già un segnale l'ottantasesimo Gian Paolo Pazzini ed è stata a festa grande soprattutto per Iva Iurec per la formazione veronese Iva Iurec bellissimo è molto bravo Iva Iurec già in settimana nella scorsa settimana nel recupero con la Lazio che a dicembre si è andata a giocare la Supercoppa Italiana un trofeo ovviamente vinto dalla Lazio ha praticamente pareggiato per 0-0 e ha battuto la Juventus che era prima in classifica allora con questo fatto era prima in classifica si è fermata però mancava il mancava il derby della Madonnina che si è giocato ieri sera si è giocato alle ore 20.45 poi sempre andiamo in ordine in ordine di partite la Lazio che ha vinto con un gol al 40esimo di Felipe che ha il sedo allora ha vinto questo gol di Felipe Caicedo la Lazio e si era portata a 53 punti sopra l'Inter almeno uno dalla Juventus mancava l'Inter in questo caso hanno visto tutti quanti questa partita soprattutto l'Inter arrivava al meazza dire dobbiamo vincere per almeno per arrivare alla Juventus superare la Lazio con questo gol di Felipe Caicedo si è vista una grande non si è vista una grande Lazio si è vista di meno la squadra di Simone in in Zaghi poi hanno detto sì siamo avanti e poi è iniziato diciamo il derby ieri sera alle ore 20.45 ma è iniziato così quando tutti dicevano deve perdere l'Inter sia la Lazio che la Juventus per dire se no ci raggiunge la squadra di Antonio Conte ci sorpassa diceva sicuro pensavano anche i giocatori della Lazio e allora deve perdere e arrivano notizie positive sia per la Juventus che per la Lazio con al quarantesimo assist di Slade Mbremovic che ha saltato più alto di Godin e ha passato il pallone Anterebic al quarantesimo al quarantesimo Frank Chessy passa il pallone di Slade Mbremovic ed è 2-0 quindi incredibile l'Inter sta perdendo alla fine del primo tempo l'Inter perde deve almeno vincere per 3-2 per almeno agganciare la Juventus e sorpassare Lazio per il momento dice che è sotto a 51 punti e la Lazio è seconda ma nel secondo tempo si riapre soprattutto l'Inter al 51 di Mossegna Marcello Brozo dice dopo un minuto diciamo scarso Mattias Vessino al 53 di Mossegna con assist di Alexi Sanchez il 2-2 quindi non ci potevano credere tutti al Meazza 2-2 l'Inter va a 52 punti almeno uno dalla Lazio almeno due dalla Juventus poi un gol Antonio che andrà a battere il calcio d'angolo e Stefan De Vrij stava cadendo e il pallone lo mette alle spalle di Gianluigi Don Rum allora questo è stato fino al settantesimo 3-2 il Milan ci ha provato in tutti i modi voleva prendersi questo pareggio perché un punto anche era fondamentale ci ha provato ci ha provato poi un erroraccio di il giocatore numero 23 Nicolo Barella ha veramente detto l'Inter è più forte è nettamente forte però lo poteva già almeno chiudere la partita poi c'è stato quasi un accontro di partenza dell'Inter e il nuovo giocatore Victor Moses segna il fall assist a Romeluca con il 90 segni il gol del 4-2 e così finisce la partita 4-2 e l'Inter vince e si porta 50 4 punti a pari punti della Juventus e la manda a meno 1 la Lazio e devo dire una cosa importante che è entrato Eriksen al minuto 72 a posto di Alexi Sanchez io devo dire che Christian Eriksen è stato molto bravo erano non so 35 metri e in 35 metri ha fatto una traversa una traversa mamma mia bravo Eriksen soprattutto sulle punizioni ve l'ho ripetuto all'infinito è bravo sulle punizioni e quindi ha regalato tanto alla squadra di Antonio Conte erano in campo poi diciamo dal ottantesimo minuto erano in campo dall'ottantesimo minuto Ashley Young erano Christian Eriksen e Victor Moses perché Ashley Young è anche se è uscito è uscito al 95 quando la partita era più o meno finita quindi sono stati fino al 90 dopo il gol di Romelu di Romelu calco tutti entrano la cuisine insieme quindi hanno regalano hanno regalato una grande partita soprattutto alla squadra Antonio Conte che ha dato tanto Daniele Padelli ha sbagliato nelle due azioni quando ha segnato il Milan con Anterebic e con Zadini qui si dice che serve un altro portiere perché non è un gran portiere Padelli a posto di Samir Andanovic passiamo al passiamo al Napoli Lecce il Napoli ha perso 3 a 2 insiste Gennaro Gattuso insiste per mettere Ospina in porta tutti quanti conoscono che Ospina non è un gran portiere non ce la fa e allora fa tanti errori Ospina ma anche la fanno tanti errori tutti il vantaggio aria di Gianluca alla Padula al 29esimo poi al 48esimo quindi 1 a 0 Gianluca la Padula ma finisce più tempo per 1 a 0 per il Lecce al 48esimo segna Arcadius Millic con Assis Dries Mertens per il pareggio poi Gianluca la Padula segna il 2 a 1 al 60esimo Assis di Filippo Falco e poi arrivi il 3 a 1 di Marco Mancosu Marco Mancosu tra l'altro che era stato messo a terra da Mario Lui per un fallo e Marco Mancosu fatto una punizione davvero straordinaria straordinaria non se lo aspettava neanche la difesa del Napoli perché da quella distanza diciamo erano quasi 30 metri e segnare da lì è davvero difficile e allora così si è portato sul 3 a 1 anche poi ha segnato il 3 a 2 Giuse Maria Caicon anche se era un gol strepitoso ma non è valsa la pena Gianluca Lapadula è stato sempre lasciato da solo Gianluca Lapadula era la difesa contro Gianluca Lapadula quindi Gianluca Lapadula è andato sempre da solo poi passiamo alla Fiorentina che aveva un avversario ostico che era l'Atalanta ha segnato prima Federico Chiesa al 32esimo quindi vince 1 a 0 nel primo tempo con il vantaggio della Fiorentina poi segna al 42esimo per il pareggio Duvanzapata al 72esimo segna a Ruslan Malinoski con assist di Aleandro Gomez praticamente e e allora si vede praticamente tanto di più io voglio soprattutto dirvi che ci sono state tante novità importanti io devo dire che aveva avuto dal 72esimo fino alla fischio finale tante occasioni la squadra di Iacchini per recuperare perché le squadre possono le squadre possono sempre recuperare dispiace soprattutto per gli uomini di Iacchini ma bravo gli uomini di gli uomini di Giampiero Gasperini poi perde anche perde anche la Roma per 3 a 2 ricordiamolo il gol al sedicesimo di Riccardo Ozzolini del Bologna un assist di Musa Barov poi l'autorete al ventiguesimo di Stefano Densville per l'autorete quindi per il pareggio della Roma poi segna Musa Barov al ventiguesimo 2 a 1 e Stefano Densville da l'assisman poi finisce 2 a 1 il primo tempo il secondo tempo 3 a 2 il secondo tempo 3 a 1 segna Musa Barov al cinquantonesimo anassist di Mattia Ziengenberg ma poi il settantaduesimo segna Henkin Mkhitaryan con anassist di Bruno Perez poi per un brutto fare è stato spulso Bayern Cristante non è brava la squadra di Paolo Fonseca che rischierebbe la panchina anche se sono quinto posto a 39 punti non hanno non hanno di granché 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 dire praticamente e allora dobbiamo dire che la squadra di Sinisa Mialovic è stata brava veloce e anche ha avuto le grandi chance come ho già detto anche aveva segnato al settantuesimo la Roma che aveva tanto tempo per andare al gol del al gol del pari questo non è non è stato poi diciamo che la Roma adesso deve continuare a sperare passiamo alla partita Torino Sampdoria perché era andato via esonerato Malter Mazzarri ed è arrivato Moreno Longo in settimana allora il in vantaggio della arriva al secondo tempo al cinquantacinquesimo del Torino con Simone Verdi il pareggio contro questo è contro squadra di carodonieri il pareggio della della Sampdoria per 1-1 con Gastro Ramirez al settantacinquesimo segna Gastro Ramirez con assist di Fabio Quadella al settantacinquesimo calcio di rigole con il gol di Fabio Quadella qui dobbiamo dire che non piace moltissimo la non mi è piaciuto moltissimo la il Torino perché il Torino aveva Moreno Longo era entrato in settimana non conosce molto bene i ragazzi non li conosce molto bene i ragazzi dobbiamo vedere anche che cosa succederà nelle prossime settimane Moreno Longo vediamo andiamo però bravi della formazione Claudio Ranieri con una Quagliarella che si sta ritrovando si sta ritrovando Quagliarella e anche si sta ritrovando anche un gaso Ramirez si è trovato anche con un assist e con un gol Fabio Quagliarella poi si può anche vedere si può anche vedere si può anche vedere come la squadra sta dando i suoi frutti dall'entrata di Claudio Ranieri poi le altre partite io devo dire che parliamo della SPAL perché la SPAL imminente semplici dovrebbe di Biaggio in campo il primo allenamento con la SPAL perché oggi c'è stato l'esonero dell'ex allenatore semplici ed è entrato Gigi di Biaggio ex allenatore dell'Under 21 ricordiamo i gol allora al ventiquattresimo Kevin Bonifazi della SPAL che ha disilluso tutta quanta la squadra la squadra della SPAL al 65 Federico Caputo su rigore per al 90 ha senato Jeremy Bogà con assist Domenico Bellagli al 90 quindi poteva anche portarsi questo punticino a casa lo doveva fare perché così arrivava agli stessi punti del Brescia almeno lo dovevano fare secondo me bisogna anche capire le cose che vanno e che non vanno soprattutto nella squadra uno deve almeno sistemare le cose di Biagio perché per non portare la squadra in Serie B poi parliamo della Brescia Udinese perché allora Brescia Udinese c'è stato il pari 1-1 a 81 Dimitri Bisoli che portava in vantaggio e prendevi tre punti il Brescia ma il 91 segna il rigodevolo con assist di Stefano Okaka e allora qui si portano un punto ciascuno perché il Brescia a 16 punti l'Udinese 15esima 25 punti e anche questa è una bella partita è stato andato Diego Lopez era da poco tornato in panchina praticamente Diego Lopez e allora era tornato è andato da poco in panchina del Brescia allora io quello che vi voglio anche dire che sono brave le squadre però soprattutto hanno regalato tante anche l'Udinese alle squadre retrocesse perché le squadre stanno in posizioni basse perché anche il Genoa ha battuto 1-0 il Cagliari con il gol al 43esimo di Gora Pandev 1-0 con assist di Stefano Sturato Gora Pandev bravo Gora Pandev forse si stava dicendo nell'ultimo giorno di mercato che sarebbe forse è andato all'Inter Gora Pandev è uno delle triplete ma non è stato così Gora Pandev è rimasto a Genoa hanno veramente dato tutto di più Davide Nicola deve essere contento del risultato non lo è stato Rolando Mann ma non si può dire questo passiamo adesso con tutti i risultati che abbiamo detto abbiamo commentato tutto alla Coppa Italia e allora parliamo di Coppa Italia partendo dalla Coppa Italia Woman perché in questa settimana in queste 7-8-9 si è giocata venerdì sabato e domenica la Coppa Italia femminile perché perché allora Florentina San Gimignano 2 Sassuolo 1 Fiorentina 2 Milan 1 Roma 6 San Marino Calcio Academy 1 Empoli 0 Juventus 6 poi ci saranno vi ricordo i ritorni 26 febbraio Juventus Empoli Sassuolo Florentina San Gimignano Milan Fiorentina San Marino Calcio Academy Roma hanno la partita Fiorentina Milan 2-1 ha segnato per il Milan al 64esimo Salvatori Rinaldi al 69esimo segna Alia Guagni per la Fiorentina e Tatiana Bonetti al 72esimo per il 2-1 belle partite queste anche della Coppa Italia femminile perché io dico in generale il calcio in mini è sempre bello e allora bella partita questa qui ci sono anche dato che il campionato ve lo voglio ricordare non è molto grande quello della della Serafemie fanno ha già dei quarti andata e ritorno bella partita bella partita la vincitrice si affronterà del ritorno con la Juventus che ormai con 6-0 contro l'Empoli che ha vincente Empoli 0-26 vuol dire tanto la Roma che ha vinto siamo sul San Marino San Marino che è un anche San Marino che un gol ce l'ha deve segnare almeno 5 non non subirne 1 l'Empoli deve segnare 7 e non subirne 1 e allora se vince se la Roma resta invariato e qui si va ad aspettare il ritorno a Florentina San Gimignano e Sassuolo sarebbe una di queste due va già ad affrontare la Roma e la Juventus che già sarebbe in semifinale dove deve aspettare la vincente tra Fiorentina e Milan tutto si può decidere nei ritorni tutto si deciderà e allora bellissime partite bella questa brava Alia Guagni che ha fatto una grande una grande partita e ha segnato il gol passiamo alla Coppa Italia maschile perché la Coppa Italia maschile perché si giocano due partite mercoledì e giovedì mercoledì si gioca Inter-Napoli giovedì alle 20.45 e giovedì si gioca a Milan Juventus tutte e due allo tutte e due allo sta Giuseppe Meazzi in San Siro hanno dovuto toglierci un giorno per esempio poteva giocarsi già di martedì e mercoledì però dato che le squadre hanno giocato ieri sera alle 20.45 due giorni di riposo glielo vogliono concedere Napoli anche ha giocato ieri la Juventus che è stata quella che ha avuto oltre alla sconfitta un giorno ha avuto domenica domenica martedì mercoledì per perarsi quattro giorni in Miana oggi martedì mercoledì perarsi tre giorni quattro la Juventus e il Napoli Inter tre giorni e tre giorni vero l'Inter che viene a una bella positiva vittoria contro il Milan Napoli ha sconfitta contro il Lecce per contro il Lecce per tre a due il Milan ricordiamo la ria da quattro da K per quattro a due contro l'Inter e il Juventus per il K poco nella Zorana per due a uno questa è una partita davvero bella partita davvero interessanti io ricordo che queste partite allora la precedente partita il 6 gennaio di quest'anno in in campionato finita Napoli 1 Inter 3 Inter 3 e quindi ancora poi bisognerebbe anche vedere il ritorno come finirà e questo è già un trampolino di lancio per vedere se il Napoli può andare avanti il Napoli può andare avanti con delle belle prestazioni o deve sistemare tutto cambiare modulo e rivedere i giocatori l'Inter che va da belle prestazioni deve continuare così e deve almeno provarci in questa partita e la Milan che ha un Zalatini Bremovic che si è ritrovata al gol mentre la Juventus non ha carte in tavola a Ronaldo però c'è di nuovo una sfida importante perché Zlatan ha giocato anche con la maglia bianco nera e allora si vedranno le due squadre davvero interessanti ricordiamo che il precedente testa a test è stato il 10 novembre 2019 Juventus 1 Milan 0 quindi per un gol aveva vinto la Juventus però ricordiamo che le semifinali qui sono andate e ritorno quindi anche non è tutto deciso perché poi il 4 marzo sarà Juventus Milan il 5 marzo sempre il 25 sarà Napoli Inter e già tutto un calendario davvero importante poi nei prossimi giorni nei prossimi settimane vi parleremo dei calendari urgenti delle delle squadre calendari urgenti perché perché devono affrontare il campionato allora allora il parliamo di Napoli campionato Coppa Italia Champions League e e quindi questo è l'Inter campionato Coppa Italia Europa League il Milan solo campionato Coppa Italia la Juventus campionato Coppa Italia e Champions League quindi tre squadre il Napoli l'Inter e la Juventus hanno il turno nelle coppe nelle coppe europee Napoli e Juventus in Champions League l'Inter in Europa League e allora queste sono più o meno quello che accade soprattutto nei turni che accade in Coppa Italia che accadrà tra domani tra giovedì tra mercoledì e giovedì abbiamo parlato di Coppa Italia e femmine passiamo alla serie B allora passiamo alla serie B perché la serie B veramente vede un bellissimo calendario allora bellissimo calendario partiamo dai risultati manca una partita che giocherà questa sera allo stadio Rechi di Salerno Salernitana contro Trapani ricordiamo le altre partite Ascoli 2 Juve Stabia 2 che si è giocata venerdì sabato Cittadella 1 Empoli 2 Crotone 1 Cremonese 0 Pordenone 2 Livorno 2 Venezia 0 Frotone 1 Perugia 0 Spezia 3 ieri sono giocate Pisa 1 Chieverna 1 Virtus Centella 2 Pescara 0 e Cosenza 0 Benevento 1 io voglio partire la partita Cosenza Benevento perché il Benevento praticamente ma 54 punti praticamente 54 punti sta il Benevento è sempre a meno 17 dalla seconda e dalla terza meno 18 dalla quinta un Benevento che sta salendo veramente una china una grande china potrebbe diciamo non sappiamo quando andare in Serie A se vince partite sia con il Crotone Frosinone con il Crotone con il Frosinone con il Pordenone può almeno già chiudere il capitolo Serie A bella partita ieri Benevento segna un grande gol il fratello di Lorenzo Insigne che ieri non si è visto in Serie A ma il fratellino Roberto si è visto in Serie B con un grande gol di Roberto Insigne un assist di Perparime Etemai un assist che proprio all'inizio dell'area di rigore sulla fascia destra tira con uno si gira praticamente si gira e segna con il piede che non è il piede destro con il piede destro segna no si con il piede destro segna e fa un gol un euro gol spaziale quindi bella bella partita peccato poi Benevento ha dovuto sempre dovuta sempre aspettare ha dovuto parare molto peccato che al cinquantresimo hanno un fallo da ultimo uomo ha portato il Benevento in dieci è stato espulso Massimo Viola ma tutti quanti voglio ricordare sono andati da Lorenzo Montipò a fine partita ad abbracciarlo perché è stato lui il vero è stato l'uomo davvero più importante della partita perché il coronè ha il cosenza attaccato fino alla fine fino all'ultimo ma non c'è riuscito il cosenza era sempre Lorenzo Montipò che salvava quasi tutte le azioni per il del cosenza e allora il Benevento vince e si porta a casa altri tre punti quindi è come diciamo 54 punti come le prime due della classe della serie A l'Inter e la Juventus e quindi possiamo dire che per il momento diciamo è una serie B che potrà già essere definita il primo posto non si sa mai perché si deve sempre dire arriviamo fino alla fine del termine del campionato poi se ci dirà che il Benevento andrà in serie A lo scopriremo alla fine si portano sempre Crotone allora Crotone Frosinone Pordenone Spezia Entella Salernitana e Cittadella anche Perugia diciamo Perugia si possono anche dire queste squadre dalla seconda alla nona tutte e per tutto tutto si può giocare per la seconda posizione per il secondo posto della per andare in serie automaticamente poi giocheranno terzo e quarto posto che sono Frosinone e Pordenone che chi andrà terzo e quarto posto non dovrà passare dai dai preliminari ancora perché vanno già in semifinale diretta perché quinta sesta settima e ottava andranno per diciamo per i quarti di finale poi e quindi la terza e la quarta avranno già accesso alle semifinali con questo diciamo che la serie B sta dando molto spettacolo è una serie B più bella degli ultimi anni lo ricordiamo che lo vogliamo ricordare ricordare che con questa con il turno 23 voglio dirvi che lo scorso anno con il turno praticamente 23 con il turno diciamo 23 era un po' meno una situazione davvero davvero diversa c'erano vicine c'era vicino diverse squadre allora vi riportiamo della stagione 18 19 praticamente era una grande partita io ricordo tanto tante cose adesso noi ci dobbiamo salutare perché è il momento di salutarci poi nei prossimi appuntamenti con che goal vi daremo aggiornamenti aggiornamenti venerdì momento di di parlare anche di serie ci vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì poi ci saranno anche vari cambiamenti dei palinsesti per quanto riguarda che goal è il venerdì ma noi per il momento andiamo il venerdì a che che goal che goal praticamente sempre 18 grazie a tutti salutiamo tutti ricordando in questo programma in collaborazione con calcio mercato report punto it direttore attilio malena grazie a tutti e ci troviamo venerdì di sempre con la stessa ora per parlarvi di quello che è successo in coppetale quello che succederà in serie a in serie b e soprattutto il nostro spazio dedicato alla serie c una buona sera da tutti daniele con Francesco Acchiardi, anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente la Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Un saluto. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre, Radio Inizia il Campionato.